buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda lezione di shogi in italiano in questo video vedremo la posizione iniziale e soprattutto un importante concetto del concetto della promozione innanzitutto quindi vediamo la posizione di partenza del gioco dello shogi notiamo subito che non esistono intanto tessere di colore bianco o nero in un certo senso pezzi bianchi e pezzi neri esistono solo pezzi orientati verso l'alto o orientati verso il basso le tessere dello shogi sono simili all'immagine che vedete indicata dal cursore il fatto che abbiano la punta rivolta in avanti indicano che stanno andando in questa direzione di marcia e stanno puntando quindi verso il giocatore idealmente che sta in alto naturalmente vedete l'immagine qui a sinistra il le tessere puntate con la punta verso il basso e stanno indicando la direzione appunto verso il basso verso il giocatore che sta in basso in tutti i giochi orientali il nero tendenzialmente sente quindi il giocatore che parte per primo il bianco è il giocatore che risponde e quindi che parte per secondo la posizione iniziale è come vedete su tre traverse sono chiaramente non simmetriche in quanto vedete che la torre e l'alfiere non sono nella stessa posizione sono se volete speculari la torre è collegata a questa altra torre vedete da questo tipo di simmetria centrale dicevo i pezzi sono rivolti su tre traverse similmente agli scacchi la prima fila dello schieramento chiamiamolo così è già fatta dai pedoni i pedoni sono la prima fila che quella che entra in contatto di solito per prima con l'armata avversaria poi c'è una fila completamente vuota dove sono sistemati in due caselle i pezzi di maggior valore il pezzo di maggior valore è a destra del giocatore sempre anche per l'altro anche per il bianco è la stessa cosa la torre è a destra l'alfiere è a sinistra succede la stessa cosa naturalmente per il giocatore col bianco sulla parte più arretrata dello schieramento si trovano i pezzi minori chiamiamoli così e i generali e il re partiamo da sinistra nella casella in bassa sinistra c'è la lancia e poi questo è simmetrizzato in basso a destra nella lancia quindi sappiamo che si muove solo in avanti è momentaneamente fermata dal suo pedone per in un certo qual modo aiuta questo pedone ad avanzare sostenendolo dalle retrovie poi le notiamo che ci sono i cavalli nella casella immediatamente adiacente e i cavalli a differenza che negli scacchi non possono essere attivati subito bisogna aspettare almeno il movimento di pedoni poi ci sono vedete i quattro generali generale argento generale oro oro argento che fanno la guardia in un certo senso al re che è messo al centro cosa cosa notiamo notiamo subito che i pedoni quindi non sono attaccati alla ai pezzi come nel caso degli scacchi e ci sono molti spazi vuoti nel campo che vanno costantemente tenuti possibilmente coperti per evitare quello che vedremo la prossima nella prossima lezione e cioè il paracadutaggio notiamo un'altra cosa vedete che in questa in questa posizione è possibile attivare i pezzi solo molto lentamente infatti se ci pensate non esiste uno sviluppo in quasi immediato come accade negli scacchi tutti i pezzi devono manovrare dietro i pedoni e cercare di ottenere la posizione migliore possibile per poter andare avanti di più questa questo campo queste tre traverse che rappresentano il campo del bianco del nero scusate diventano la zona di promozione del giocatore col bianco quindi questa zona che vedete qua della scacchiera diventa il campo la zona di promozione per il giocatore bianco evidentemente questo si ribalta nel caso del nero essendo questo territorio del nero questa zona queste ultime tre traverse diventano la zona di promozione del nero cosa succede quando un pezzo arriva nella zona di promozione beh come abbiamo già detto cambia la sua natura diventa un pezzo promosso vediamo subito quindi con una partita ad esempio non vuole essere una partita naturalmente seria nella quale cerchiamo di mostrare qualche movimento dei pezzi e contemporaneamente una eventuale promozione vediamo che cosa succede muoviamo ad esempio così vedete che il pedone del bianco avanza solo di una casella non può muoversi di due apre la linea dell'alfiere supponiamo ad esempio che che ne so il bianco risponde in questo modo posso ad esempio muovere il generale oro in questa direzione anche il mio avversario può fare una cosa simile può muovere ad esempio il generale argento in questa posizione io posso muovere la lancia in avanti e il mio avversario può muovere la torre qui così vedete che all'inizio è importante prendere la mano col movimento dei pezzi dicevo non vuole essere una partita ad esempio tutt'altro facciamo finta però che per un momento questo alfiere voglia catturare questo pedone vedete che il computer chiede se io voglio promuovere ecco quello che succede ogni volta che io entro nelle tre traverse dell'avversario io ho la facoltà non l'obbligo ho la facoltà non l'obbligo di promuovere il mio pezzo supponiamo che io lo voglia fare voglio promuovere il mio alfiere che è normale voglio promuoverlo a un alfiere promosso eccolo qua vedete che cambia colore per ricordarmi che ho promosso e io ho catturato nel frattempo anche il pedone del del bianco e l'ho messo nella mia nella mia casella quindi vedete che siccome questo pezzo è entrato nelle tre traverse del mio avversario ho la facoltà di promuoverlo facciamo naturalmente un altro esempio facciamo finta che il cavallo del tratto muovendo 4 al lato da scacquare quindi sono obbligato anche a sfuggire ok facciamo un altro esempio facciamo finta che ancora una volta io voglio muovere una mossa casuale il cavallo del mio avversario entra di qua io muovo una mossa completamente casuale il mio avversario muove di qua torno indietro e il cavallo del mio avversario entra ancora una volta viene chiesto se voglio promuovere oppure no posso scegliere di promuovere attenzione che adesso questo pezzo mentre muoviamo ancora una mossa casuale questo pezzo non è più un cavallo è diventato un cavallo promosso di conseguenza muove come un generale a oro cioè può ad esempio muovere qui così può catturare il mio pezzo ma poteva anche andare qua naturalmente poteva anche andare indietro quello che non può fare ad esempio è muoversi qua non me lo lascia fare ok quindi abbiamo visto che basta entrare per il momento prima fase ovviamente basta entrare nel campo avversario e si viene promossi nulla di difficile questo vale come dicevo per ogni pezzo notiamo subito che tocca ok così notiamo subito che però non è possibile per il generale oro promuovere infatti giochiamo continuamente mosse casuali il generale oro cerca di entrare entra e non mi chiede se vuole promuovere o meno il generale oro non vuole essere non può essere promosso perché appunto come diciamo prima è già un pezzo promosso di su notiamo appunto che non è che è necessario arrivare solo sulla terza traversa si può arrivare ad esempio anche sulla seconda anche sulla seconda va benissimo prendiamo ad esempio questo caso qui supponiamo che ok tocca il bianco ok tocca il nero ok va benissimo scusate ok tocca al giocatore ok supponiamo che il il giocatore col bianco voglia giocare l'alfiere in questa casella qui così può promuovere certo quando arriva vedete anche sulla seconda può promuovere perché dentro le tre caselle naturalmente poteva fare anche di meglio poteva catturare la lancia e ancora una volta viene chiesto se si vuole promuovere evidentemente lo sappiamo già da prima questo è diventato un fiere promosso e di conseguenza acquista i movimenti vedete anche del re abbiamo visto prima quindi può muoversi anche di una casella quasi da re diciamo può muovere una casella in qualsiasi direzione ok quindi abbiamo visto che è solo questione di pratica però abbiamo capito che quando entro nel campo avversario se da fuori entro nel campo avversario posso promuovere i miei pezzi l'unico che non può promuovere abbiamo visto è il il generale oro perché è già promosso e evidentemente non si può promuovere il re è già un pezzo già grande di suo quindi abbiamo imparato in questo video qual è la disposizione iniziale dei pezzi e come si fa a promuovere almeno nella prima tipologia arrivederci alla prossima puntata